Salve, sono l'ispettore Guerrieri. Avete mai visto questo? Andate via! Ma chi è? E' uno che è coinvolto nell'omicidio Rettori. E che prima o poi io arresterò. Toglimi questo bene di dosso e chiamami il mio dirigente, la DIA! Vice-ispettore Malik Soprani. Glielo spieghi tu che mi hai fatto saltare la copertura. Bravo poliziotto, migliore del soccorso. Ma in questo momento in squadra con te. Che c***o fa quello? No, quello è con me. Scusa. Non eri mai creduto? Mamme. Sono il medico legale. Guarda che c'è. E' mia figlia, sta in campana. Ciao, piacere Alba. Allora se parla con Alba io lo devo sapere. Se guarda Alba io lo devo sapere. Se pensa ad Alba io lo devo sapere. Ma il problema è che è nero, non ho capito. Ma ha dato del razzista. Ma che c***o? Questo è il razzista. Ma che c***o? Hanno trovato questi resti in un cantiere di La Torre Vecchia. Pare che ce ne siano degli altri. C'è stato un morto. Quest'intaccine è mia. E io la conduco come c***o mi pare a me. Tutta la vita che proteggo Alba su sta cosa, come faccio? serio? illo! No! 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 Autore dei sorrisi